In questi momenti di crisi in Italia serve, ragazzi, su, ok, io dico in alle ule, voi dovete rispondere, aiwa, facendo così le mani, vai via, aiwa vuol dire vai via, tutti i spiriti che ci portano in sfiga vanno via, proviamo su le mani, ok, io dico in alle ule, voi rispondete, aiwa, facciamo una prova? I nale ule, in alle ule, in alle ule, in alle ule, sai, sai, 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 in alle ule, sai, 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 in alle ule, sai, 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 sai potenza, riproviamo Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. In ogni piazza dove abbiamo suonato abbiamo fatto questa canzone per portare bene. In questi momenti che stiamo vivendo in Italia secondo me serve. Non tocchi più quel signore che non ha alzato le mani. Non lo tocca. Guarda, te lo consiglio. Faglielo fare solamente a lui.